Buongiorno, mi chiamo Gian Mario San Nicola, rappresento l'azienda Laser di Castelnuovo Rangone in provincia di Modena. Laser è un'azienda che è presente sul mercato dal 1974 e si occupa di progettazione, industrializzazione e produzione in serie di schede elettroniche e sistemi elettronici dedicati e personalizzati per il cliente. È un'azienda che conta 35 dipendenti di cui il 25% è impiegato nel reparto ricerca e sviluppo con precisamente 8 ingegneri elettronici. È un'azienda che ovviamente punta sull'innovazione e sulla ricerca e questo è il motivo per cui investe molto nel reparto ricerca e sviluppo. L'esperienza e la professionalità dei dipendenti Laser ci hanno portato a collaborare con importanti aziende leader di mercato in diversi settori, vale a dire automazioni industriali, apparecchiature per il fitness e il wellness, biomedicale, sicurezza e controllo accessi e automazione industriale. Laser inoltre è accreditata come laboratorio MIUR ed è inserita nell'albo dei laboratori di ricerca esterna, che vuol dire che è accreditata e può progettare apparecchiature con alto contenuto tecnologico e di innovazione. Dal 2010 Laser amplia il proprio catalogo prodotti con soluzioni rivolte al mondo dell'illuminazione LED. Questo ha comportato l'inserimento nel mercato del proprio marchio Kaleidos che si prefigge di progettare e produrre sistemi di illuminazione LED e soprattutto controllo elettronico dell'illuminazione LED. Il tutto volgendo una particolare attenzione al risparmio energetico e all'efficienza energetica e al rispetto per l'ambiente. Questo è il motivo principale che ci ha portati a sostenere l'evento della settimana della bioarchitettura e della domotica.